yuki a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale un mesetto fa sul canale ho aperto un prodotto che possiamo definire tra virgolette vintage ovvero il team di redox ovviamente per rendere omaggio a questo prodotto ho intitolato il video apre un prodotto dal valore storico non economico incredibile e quindi la metà dei commenti di quel video erano ma io da gamestop lo trovo a 30 euro io un attimo sono rimasto così nel senso ragazzi questo è un prodotto che ha 13 anni non c'è scritto valore economico sul titolo c'è scritto valore storico all'interno c'è la prima reprint e credo l'unica reprint dei ruler e sono secret quel mazzo è stato un t0 ed è per questo che ho detto valore storico in più i pacchetti sono pacchetti vecchi non sono pacchetti nuovi quindi oggi per farvi incazzare apro un altro prodotto dal valore storico incredibile ah ragazzi ovviamente per togliervi qualsiasi dubbio l'ho pagato 30 euro e l'ho preso da gamestop grande ah ovviamente prima di iniziare vi ricordo che se volete liberarvi di carte di yuvi magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon trovate il mio instagram qua sotto in descrizione passateci venite a seguirmi mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare ah trovate anche gli altri social twitch e compagnia cantante quindi passate inoltre se questo video raggiungi 70 mi piace e la konami sbanna redox come ha fatto su master duel perché poi escono anche dei supporti fuoco ad agosto prossimamente ci andiamo ad aprire pure questo e forse anche un team di tidal però vediamo come va ah finalmente finalmente apro un team di tempest ma è successo nel 2013 ero povero non me li potevo permettere ora cazzo posso spacchettarli allora di questo team so diciamo poco niente perché non mi sono informato so solo che è uscito il 21 novembre in italia e diciamo che a breve avrebbe compiuto anche 10 anni però nel senso non posso privarmi anche se sarebbe stato bello da mettere in collezione poi questo team usciva contemporaneamente al team di redox quello che abbiamo aperto l'altra volta mentre tempest e blaster sono usciti se non erro ad agosto adesso andiamo a vedere perché non mi sono spoilerato niente non so quali sono le promo e non so neanche quali sono i pacchetti ah vabbè ovviamente una delle promo era abbastanza scontata abbiamo mamma mia quanto è bello aprire questo genere di prodotti 10 anni 10 anni ragazzi 10 anni sono passati mi sono invecchiato ogni volta che apro sta roba mi sento sempre più vecchio porca troia abbiamo qua tempest che è praticamente l'unico dragon ruler attualmente a poter essere giocato poi abbiamo cavalluccio marino di tuono vabbè è abbastanza inutile attualmente poi ingranaggio gigante x già questo molto più interessante come carta adesso vorrei capire dove usciva numero 16 perché quello mi interesserebbe di team da prima poi abbiamo vabbè l'ingranaggio numero 50 buono perché non ce l'avevo tra le staple e quindi questa verrà messa lì subito perché prima di questa stampa non era mai stata printata e usciva solamente da jump e poi abbiamo l'alzarango magico forza di baia carta totalmente inutile ma vabbè diciamo che tra le promos sono abbastanza soddisfatto diciamo tempest non c'ha un gran valore se non sbaglio dovrebbe aggirarsi sui 3-4 euro nm poi ovviamente se vuoi playset o roba del genere li vai a pagare indicativamente sui 7-10 euro forse anche 11 allora i pacchetti a disposizione sono spettrine dell'ombra in 2x poi abbiamo giudizio della luce il signore della galassia tachionica in 2 pera basta e abbiamo finito l'obiettivo sarebbe beccare o qualche ultimate o lui ghost che sarebbe totalmente senza senso ah ovviamente poi mi stavo dimenticando qua ci sta cosacco potrebbe uscire in seconda ma è sempre cosacco e anche l'incanalatrice arpia che ultimate valicchia abbastanza in giudizio della luce cos'altro c'era? mangiatore di stelle che può uscire pure ghost lui che costa tipo 6-7 euro e susanowo mentre qua dentro oltre a lucard c'è stava ah cavaliere divino glorioso drago d'oro ghost poi poi numero 46 sia ultimate che super entrambe le versioni costano ma è vero soprattutto numero 65 che si può giocare in sprite quindi top nel senso i pacchetti non sono per nulla male allora io adesso partirei da spettri dell'ombra che è quella che mi casa un po' di meno e andiamo a vedere allora andiamo a goderci questi pacchetti perché come ho detto l'altra volta ragazzi non si vanno a sbustare tutti i giorni eh vediamo non so il trick dovrebbe essere a 4 1 2 no 3 mi sembra e vediamo abbiamo drago acqua mitico sopravvivenza del più forte principessa dei fantasmi drago protettore armato scia del serpente sacro potenziamento sovrapposizione di numeri cio cio cian il santuario segreto degli incantatori e dai da una gioia drago risucchio dell'anima ragazzi un secondo per fine anno vorrei tari 5k su youtube sarebbe una cosa incredibile e totalmente senza senso l'iscrizione il like e il commento a voi non costano assolutamente niente ma a me danno una mano incredibile inoltre piccolo spoiler ho della robina carina da sbustare ma non vi ho detto niente allora ragazzi non dico di guadagnarci perché è impossibile non cioè dovrei proprio sculare in 5 pacchetti ed è una cosa impossibile però sai sbustare meglio dell'altra volta sarebbe già un enorme cosa gradita perché diciamo che non è che sia andata benissimo se non sbaglio tipo una cosa come 3 super l'altra volta ovviamente si può andare sempre peggio abbiamo mira la rompistelle poi janshi fantasma trucco drago bianco viverna esplosiva sembra di vedere qualcosa che brilla piccolo procione pompon pugil indomito costo le gardna bestia fantasma meccanica sparviero di scimitarre spettro fantasma trucco castello gigante e scudo drago che merda vabbè diciamo che era il pack che mi interessava di meno già qua se mi esce il mangiatore di stelle ghost posso godere abbastanza va bene che in quell'altro c'era il glorioso drago divino de sto cazzo però diciamo che quello ce l'ho già e il mangiatore invece no abbiamo rottame delle lame poi l'atmosfera mischiata vendetta exis fratellanza del pugno di fuoco caribù traditore vanitoso intercet pomodoro drago limite di schwartz shield salamandra v sto sudando ragazzi vabbè vabbè dai una super non era scontato poteva non esserci bestia fantasma meccanica concorduda dai ragazzi cioè lo dico poteva andare molto peggio perché le super non sono garantite adesso andiamo con quelli più belli e qua se me si ragazzi se qua mesce cosacco io qua volo potrei ottenere il mio cosacco nm non sarebbe male allora 1 2 e 3 abbiamo oh un pugio indomito che mi ha chiesto un ragazzo poi burner tranquillo a breve spacchettiamo pure te poi rektan ala aurora re del fuoco garunix pugio indomito mascella di vetro ragazzi questo può uscire secret non lo so è un segno sban e per concludere no esplosione 5 fratelli però però questi sono sempre ben accetti soprattutto perché lui con un po' a rischio cioè a rischio sban no a rischio ban allora allora andiamo con l'ultimo apriamolo e assaporiamo l'odore del 2013 che bello ragazzi non so se avete mai sbustato in coreano ma le carte sanno proprio del de quelle vecchie cioè l'odore è quello penso che quindi il modo di fabbricazione non sia cambiato allora mi sa che qua non c'è niente comunque abbiamo falco bufera squalo pantera leopardo libro di magia dei miracoli dote 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 squalo fortezza abisso scaglia dai dammi almeno un altro blaster eseguire un avvitamento e 30 euro per una super porca troia ce ne erano due lì eh io so sicuro di aver preso quello dove non c'era niente come minimo in quell'altro c'era alucard mangiatore di stelle ghost cosacco vabbè ragazzi vi rinnovo l'invito se questo video raggiunge almeno i 70 like andiamo ad aprire lui e se supera i 100 ne compriamo un altro di tempest e va bene ragazzi spero come sempre il video vi sia piaciuto anche se comunque a livello di sboosting non è uscito niente spero ovviamente di rifarmi con i prossimi perché perché nel senso so 30 euro a teen so 120 euro per 4 video e io economicamente non è che ci abbia riguadagnato niente ma vediamo poi ragazzi se mi vedete gli occhi lucidi un pochino perché sto piangendo perché non è uscito un cazzo e tempest costa è quello che costa meno porca troia detto questo ragazzi per favore un like di supporto e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti